Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo il PD bisogna requisire gli immobili e mettere la patrimoniale? Sarebbe un attacco alla casa? Requisizione? Ecco, diciamo che gli attacchi alla casa ci sono sempre stati. Tu hai fatto sacrifici per comprare la casa, eccetera, eccetera, chi se ne frega, ce la prendiamo noi, alla faccia della democrazia e dei democratici. In Europa sono andati ad approvare un qualcosa che è contro la proprietà privata. I beni, vi ricordate i beni da efficientare? Ecco, la segreteria e la segretaria del PD manda dei segnali ai proprietari di immobili. Lo fa nei suoi comizi, dove parla appunto di patrimoniale, di tasse. La sinistra che cerca nuove tasse in un paese dove siamo i più tassati quasi al mondo. Ci sono diversi addii dal PD, molti dirigenti sono già scappati e altri andranno via. Schlein vuole rilanciare il diritto, attenzione, si parla e parla di diritto alla casa, ma non il diritto alla proprietà. Nel senso che tu hai diritto ad avere una casa, bene. Hai diritto ad essere proprietario? Dipende, ecco. Si fa troppa fatica nelle città a trovare affitti. In realtà non è che si fa fatica a trovare affitti, è che gli affitti sono troppo alti. Si fa fatica a trovare prezzi bassi, ecco, anche le frasi hanno un loro, perché la Schlein dice si fa fatica nelle città a trovare affitti, no, a trovare affitti bassi, non a trovare affitti. E quindi qual è la soluzione? Mettere sul mercato degli alloggi che sono sfitti, dando aiuti, intermediazioni, garanzie. Quindi prendere gli alloggi sfitti non è propriamente una logica di mercato, non è propriamente da paese democratico prendere gli alloggi sfitti, perché quegli alloggi sfitti sono di qualcuno, e se qualcuno vuole tenere l'alloggio sfitto ha il diritto di tenerlo sfitto, magari non lo affitta perché non vuole avere problemi con inquilini che poi entrano e non escono più, allora lo lascia sfitto per due o tre anni in attesa di darlo magari ai figli che magari si sposano, vanno a vivere da soli, quindi magari lasci l'appartamento sfitto per tre anni e arriva la sinistra che ti prende il tuo appartamento per affittarlo. Quindi tu non lo fai per tutelarti, la sinistra ti prende la tua proprietà privata e te l'affitta. Ecco, quindi che significa prendere gli alloggi sfitti? Sembrano un po' quelle cose dette un po' alla centro sociale, insomma, dove non c'è un retropensiero. Cosa significa prendere gli alloggi sfitti? Realmente, Schlein, lo puoi fare? No. Non puoi andare a requisire le case degli italiani perché c'è lo studente universitario che non può pagare la casa a 700 euro, la stanza, allora tu requisisci la casa di proprietà e dici te l'affitto io a 100 euro. Tranquilla. Ecco, non funziona così. Cioè, l'Italia così oggi non funziona. Se ci sono ragazzi che vanno in tenda davanti all'università o in tenda per lavorare perché non possono pagarsi una casa, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona in Italia, ma la soluzione non è prendere gli alloggi sfitti da autorità. E allora non è democrazia ma si parla di dittatura, di regime. Ma come? Loro che vedono il regime nella Meloni parlano... Se l'avesse detto la Meloni di prendere le case sfitte cosa avrebbero detto? Il tiranno vuole rubare agli italiani. Ecco, perché invece l'Hashline dice queste cose e solo un giornale le riporta? Ecco. Bene. La soluzione per l'Hashline è mettere sul mercato delle case che non sono affittate dando aiuti, intermediazioni, garanzie. Ecco. Alla faccia del mercato. Il mercato appunto dei beni delle altre persone. Beh, dice il Giorgio Spaziani-Testa che è di Confedilizia e dice questo Se sta parlando di abitazioni private lo Stato deve fare il minimo necessario senza avventurarsi in compiti che non gli sono propri. Cioè lo Stato non può dirti allora tu ti arriva alla casa una lettera abbiamo visto che hai una casa sfitta la devi affittare a 250 euro perché... perché sì quindi noi ti aiutiamo ma tu la devi affittare per forza ma io volevo venderla volevo aspettare perché deve entrarmi... no, la devi affittare perché è un ordine dei democratici eh, non è propriamente così democratica questa cosa insomma ehm... bene ma dal PD dicono servono politiche innovative coraggiose coraggiose vuol dire spropriare le case di intermediazione pubblica quindi l'autorità pubblica interviene per intermediare dire tu hai la casa sfitta quello dorme in tenda tu quella casa gliela dai a quello che dorme in tenda a 230 euro al mese perché sì tu non puoi tenere la casa sfitta e ci sono italiani in tenda quindi tu la devi affittare io sono l'intermediario pubblico ti obbligo ad affittarla e... io vi ho... vi ricordate chi segue questo canale da tempo vi ho sempre detto che questi democratici sono tutto tranne che democratici e in parecchie cose che loro dicono lo si vede questa è una delle dimostrazioni altro che democratici sono intolleranti autoritari autoritari dittatoriali questa non è la riprova questa è la riprova di quello che vi ho sempre detto ma anche le altre volte che ve l'ho dette queste cose sono sempre state tutte giustificate dai fatti grazie a tutti e arrivederci a presto